E' un attore innamorato del suono della sua voce. Deve rispondere al lord del sigillo privato. Sono sigillato in gabinetto. Penso di potermi occupare solo di una cacca alla volta. Una bottiglia di champagne a pranzo e un'altra a cena. Perché non vada tutto a puttane. Perché non vada tutto a puttane. Nei prossimi giorni l'Europa occidentale collasserà. Quale sarà il nostro obiettivo? La vittoria ad ogni costo. Dai quasi ad intendere che stiamo vincendo. Ma non è vero. E' vero che ci stiamo ritirando. Le nostre truppe sono tutte a Dunkirk. E non possiamo raggiungerle. Ci stanno spingendo in mare. C'è la questione dei colloqui di pace fra noi e la Germania. L'Europa è ancora! L'Europa è persa! Questo diranno. Hai il peso di tutto il mondo sulle tue spalle. Quanti ne sopravviveranno? Si rivolga al popolo. Gli dica la verità. Dobbiamo incitare a una resistenza eroica. Non è patriottismo combattere senza speranza. Ora è il momento di negoziare. Quando impareremo questa lezione? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca. Mi assumo la responsabilità. Davvero? Davvero sì, signore. Ed è la ragione per cui occupo questa sedia. Sì, te stesso. Me stesso. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo sulle piste di atterraggio. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai! Perché senza vittoria non può esserci sopravvivenza!